Ciao a tutti ragazzi, sono i Cadessini 2002 e per ritrovarti in una nuova parte di Unreal Tournament Godetevi l'azione, spero che vi piaccia Svive il cuo! E abbiamo vinto ragazzi! Passiamo al prossimo livello! Turbine! Che è successo? Dobbiamo uccidere nel 4, yeah! Finalmente! C'è acqua! Oh, vai bene! Il Ripper! Un ottimo tagliarti! Ti piace come lo del Ripper? Si arriva a 15 Io trovo le munizioni e non le ho Abbiamo preso un bel Sting Ma dove sono? Non è il bumbu! Non ci sono il bumbu! Bumbu! Ma no, non ci sono Ma è un forza! Dove è un forza? C'è un'invisibile! L'abbè un giallo di Grand Forcer È di più di quello di Roma! Ma... Da parte che... No, 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 no! Ti stanno vicino! Ho trovato Stingy Attenzione, abbiamo messo la Bio Warfun Clicking! Clicking! Ti piace le rumore dei miei lancerezi! Questo era uno della tua morte! No! Allora si Sei morto Sì Dopo tutti i missili No no Tu di che ti sei cazzo ma un vero stinghi mi piace la trama E' un lamento Lo so Vero stinghi Moriii Ti piace come sparare veloce Mi sono finito Poi con la barchetta che cavolo vuole fare di coppia di barchetta Boh Moriii Moriii No L'ascensore In questo giorno ci sono questi sentiti che ascensore Tu sei mi senti là? Mi senti tu madre? Mi muovo la tua macchina Sì Sì Capito No sono morto No ma perchè mi sono andati con 8 sono 10 Sì 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 E' bello che ci ridano Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Dai Ora mi faccio il culo grosso Ma non mi sono le bombette Ehi ti sono scoppiato nella pancia Anzi nella pancia E' fumato Ma ecco che così polizia non li ha Quelle corna Quelle specie di corna Sì Tu sei zitto Non direi gli sacchi Chi stai per muovere? Vedi 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 come si ritrova la ruota Ok Non direi che sta Mieghia Uffa Qui c'è qualcuno altro che vuole Basta 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 Chiama il pompiere E ti spegne l'incendio che ne culo Basta Le bombette Siamo qui E gli altri dove sono? Facciamo uno spettacolo di fuochi tirotecnici Ok Te le faccio esplodere Chi è? Tu le vuole far esplodere? E poi E poi E poi guarda la piano se mi fa Io salgo E te le faccio scoppiare ma adesso queste bombe M'hai sentito? Le mie bombe Prendiamo l'armatura ragazzi Ora sono divestiti in armatura Ora sono divestiti in armatura Muori! Le bombette nel cervello sono queste 6 mello Sì Le super bombe! Le super bombe! Oh! Anche tu le stessi meno zombo No! Ma c'è sempre qualcuno che non uccide di più? Muori! Che piacere ci trovi Dove stare vivo Tu con questo Togliarti Oh no me lo vedo io Ma vuoi muovere tu? Ma vuoi muovere tu? Ma vuoi muovere tu? Ma vuoi muovere tu? Lo sparo Lo sparo lo mendo Vai! Io ti faccio fuori Aiaiaiaiaiaiaiaiai Sì Le sparo bombette Sì Ho 30 anni di luce M'hai tizzato a scoppiare la testa Come mi si noto? Ma allora sei vivo? In vita Ma questi non vogliono morire Ti faccio volare No, tu Tu ti spavoli fuori fuori, ora Vieni, chiama quello che ce lo dice E devi andare a 14 Chi sei tu, invisibile? Due Eeeh, cazzo, quello non mi può fartere Spera bombe E passiamo al prossimo livello Bene ragazzi, per oggi è tutto Noi ci rivediamo alla prossima parte Ciao a tutti